Sì, non è capace, a Orsino, a Orsino è un sacco di un noto solo. La nostra prima attenzione vale parte di nostra programma, cui è la Tira Luz. Tira Luz significa, pone attenzione. Pone attenzione, di macera, di cose, di cose, di cose, di cose, di cose, di cosa, di cose, di cose, di cose, di cose, di cose. La nostra attenzione vale la dignità nel gruppo di loro sviluppare. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti